Ciao bambini, io sono Laura e benvenuti nel mio mondo dei giocattoli. Oggi abbiamo le costruzioni magnetiche. Apriamo. Allora... Aspettate. Questo è un paio di illustrazioni. Come vedete ci insegnano a fare tutte queste costruzioni. Vedete? Sono tantissime pagine, però io oggi deciderò di farne una. Vediamo. Ok, allora... Hmm... Oggi ne farò due. Queste sono delle carte che non servono adesso. Perciò, allora, per farlo bisogna... Hmm... Questo. Poi... Mettiamo due quadrati. Qui. Due qui. Due qui. Due qui. Due qui. E ce ne mancano anche due. Poi... Non lo trovo. Adesso vi sembrava una cosa brutta. Adesso volete vedere una magia. Uno, due... Tadà! Tadà! Adesso facciamo la seconda. Vediamo un po'. Ok. Ok. Fai deciso. Fai la culotte più semplice. Ok. Ok. Adesso queste non ci servono più. Voglio fare qualcosa. Adesso? Un po' perciò. Ma... Un po' perciò Prisciò. Sì, l'ultimo questo è un mostro non ho più idea allora direi che è arrivato il momento di salutarvi quindi iscrivetevi al canale commentate qui sotto se il video vi è piaciuto e mettete anche like quindi seguiteci e seguite anche il canale mio e di mia sorella, Rose Laura e le Gemelle che trovate qui sotto in descrizione ciao 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 ciao